Nelle Tue mani non c'è un nodo che non sia sciolto. Vergine Madre, con la grazia e il Tuo potere di intercessione presso Tuo Figlio Gesù, mio Salvatore, ricevi oggi questo nodo. Maria che scioglie i nodi, prega per me. Nelle Tue mani non c'è un nodo che non sia sciolto. Vergine Madre, con la grazia e il Tuo potere di intercessione presso Tuo Figlio Gesù, mio Salvatore, ricevi oggi questo nodo. Maria che scioglie i nodi, prega per me. Nelle Tue mani non c'è un nodo che non sia sciolto. Vergine Madre, con la grazia e il Tuo potere di intercessione presso Tuo Figlio Gesù, mio Salvatore, ricevi oggi questo nodo. Maria che scioglie i nodi, prega per me. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria che scioglie i nodi, prega per me. Maria che scioglie i nodi, prega per me.